a Palazzolo, a Creide, il servizio di Salvo Fruciano. Piccole opere d'arte di cioccolato vero arricchiscono la tradizione dei dolci degli Iblei nei giorni di Pasqua. Una tradizione custodita dalla civiltà contadina e tenuta in vita grazie alla passione di dolcieri e fornai. Pani o paste dolci di diversa grandezza contengono uova sode col guscio. Si chiamano panaredda, cuddura cullova, acedri cullova. Sugli Ibleci si fidanzava anche regalando un panareddo cullova a Palummedda. Il fidanzato regalava appunto alla fidanzata un panareddo cullova e questo era un segnale molto forte di fidanzamento. Oppure appunto la fidanzata che regala poi al fidanzato a Palummedda anche questo è un segnale molto forte. Ampia la gamma di dolci nei paesi dell'area Iblea. Per il pranzo pasquale non può mancare la cassatella a Palazzo Lacrede chiamata Lumera. Una delizia con ricotta, miele, uova e cannella. Regina della tavola pasquale è comunque la cassata siciliana dove trionfano ricotta e candidi. La cassata degli Iblei è pronta. Buona Pasqua. Il calcio è andata male al Palermo che ha resistito soltanto un tempo ai giocatori bianconeri. Al Barbera, la Juve ha vinto 2-0. Operato al naso il difensore Milanovic. mercoledì sera.